ragazzi buonasera a mi trovo a agnano dove la nostra squadra ha appena finito di fare gli allenamenti una cosa che ci tenevo a farvi vedere è questa cosa qui che mi sto avvicinando eccoci qui eccoci qui eccoci qui ma vi faccio vedere una cosa guardate qua guardate quando fumo esce dalla soffatata ragazzi è proprio indescriviti mamma mia ma ma non solo qua non solo qua vi faccio vedere che c'è anche da altre parti del campo è un attimo solo che vi faccio vedere ecco qua grazie anche da adesso buco intanto scende un pallone e scende anche il fumo esce anche da un'altra parte che adesso vi farò vedere ecco ragazzi vedete a quest'altra parte dove esce questa fumo sempre della soffatata mamma mia mi sono avvicinato troppo non si riesce bene a vedere comunque lo vedete questo fumo che esce da adesso muro ecco qua da questo buco forse ecco qua ragazzi è una cosa tremenda ok ciao ciao